cari fratelli giacobbisti oggi vi leggeremo una lettura tratta dal vangelo di giacobbo nostro sommo profeta del mistero in quei giorni giacobbo stava camminando da rai a mediaset per poter evangelizzare il messaggio del mistero anche lì dove erano tutti pagani e miscredenti fermatosi a un pozzo per ristorarsi incontrò dei curiosi che gli chiesero sommo giacobbo ma i misteri che vai annunciando in giro sono veramente veri o sono delle enormi cavolate a quel punto giacobbo dai suoi due metri e passa di altezza gli rispose fratelli voi avete il cuore annebbiato dalla certezza il mistero è ovunque ed è concreto per esempio le piramidi d'egitto chi le ha costruite in sud america poi ci sono tutti gli indizi che ci portano a credere a un'interferenza aliena nei popoli antichi e continuò a parlare loro per tre giorni e tre notti al quarto giorno essi si convinsero dei misteri e del loro sacro potere e seguirono giacobbo per poter con lui diffondere il messaggio del mistero cari fratelli che il mistero sia con voi ed evangelizzate promulgate il verbo del santo giacobbo e soprattutto il verbo del mistero salute a voi e che il mistero sia con voi grazie a tutti grazie a tutti